Un finanziamento di 270 mila euro ottenuto dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un progetto presentato dal Comune di Foggia nel 2021 relativo al contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali ed educative delle persone minorenni. Si tratta del progetto Educare in Comune e c'era una nota a Foggia redatto dall'assessore alla cultura dell'epoca Anna Paola Giuliani che si avvalse della competenza tecnica della consigliera comunale Concetta Soragnese, esperta di progettazione europea e della consulenza artistica e culturale della maestra Gianna Fratta. Siamo felici che quel lavoro oggi abbia dato i suoi frutti, si tratta di un flusso importante di risorse che permetterà il coinvolgimento di 300 bambini e la valorizzazione della figura di Umberto Giordano, spiegano in una nota l'attuale vicepresidente del Consiglio Comunale Concetta Soragnese e l'ex assessore alla cultura Anna Paola Giuliani. I bambini destinatari del finanziamento si confronteranno con i vari linguaggi dell'arte e del sapere, con attività che spazieranno dall'educazione alla lettura, dal canto alla recitazione, oltre a giochi e tanto altro. Un progetto che ha l'ambizione di raggiungere tutti i quartieri della città di Foggia, una dimostrazione che non tutto quel che viene dal recente passato amministrativo è da cestinare o peggio da criminalizzare, è la chiosa della nota di Soragnese e Giuliani.